Si potrebbe chiamare il paradosso del Frecciarossa quello che avviene tutte le mattine nella stazione di Battipaglia. A raccontarlo il leader di Per un nuovo inizio, Vincenzo Inverso, che sui social ha pubblicato quella che lui stesso ha definito una favola dal non lieto fine. Ogni mattina infatti sul primo binario della stazione di Battipaglia vi è un Frecciarossa fermo e molti cittadini sono costretti a raggiungere Salerno per prendere lo stesso Frecciarossa in partenza alle 8.41 utilizzando un regionale. Tutto ciò, sottolinea Inverso, rappresenta un monumento viaggiante al fallimento dell'amministrazione francese. La sindaca invece di fare video selfie dalla sede di Trenitalia a Roma verifichi i rifiuti che la società lascia nei pressi della stazione dopo aver pulito i treni a alta velocità che da qui non partono, dopo la beffa anche il danno. La sindaca in mattinata si è recata a Roma per discutere proprio della questione ferroviaria con i vertici di Trenitalia. Un viaggio testimoniato da un brevissimo video pubblicato sui social.